Per la prima volta nessuno è riuscito ad indovinare l'oggetto misterioso del lunedì del gioco Flash Quiz. L'oggetto misterioso di ieri, il cui premio in palio era un buono sconto del valore di 30 euro offerto dalla Conad di Antonio Biscotti, ritornerà dunque il prossimo lunedì 17 dicembre. Intanto oggi chi riuscirà ad indovinare il nuovo oggetto misterioso di Flash Quiz si aggiudicherà un buono sconto del valore di 25 euro spendibile nei punti vendita di Piazza Italia. Da ieri infatti il regolamento del gioco è cambiato, ogni giorno ci sarà un nuovo oggetto da indovinare ed ogni giorno i premi in palio cambieranno. Oltre al buono spesa Conad del lunedì e a quello di Piazza Italia del martedì, il mercoledì chi indovinerà l'oggetto misterioso vincerà un buono spesa di 30 euro offerto dall'oreficeria e il gioiello. Il giovedì sarà messo in palio un buono spesa di 30 euro spendibile nei negozi di Fevian Department Store e venerdì ancora un buono spesa da 30 euro spendibile alla corte. Alle 24 di ogni giorno si conoscerà il vincitore e naturalmente dal giorno dopo cambierà anche l'oggetto misterioso da indovinare. Vi ricordiamo quindi che dal lunedì al venerdì prima dei telegiornali di Italia 2 TV a partire dalle ore 14 andrà in onda il Flash Quiz nel nuovo contenitore Vedi, Video e Vinci. I telespettatori da un particolare dell'oggetto dovranno indovinare di cosa si tratta. Il primo che riuscirà a scoprirlo per aggiudicarsi il premio in palio dovrà inviare immediatamente la risposta esatta all'indirizzo mail flashquiz.it o potrà scrivere sulla pagina Facebook di Flash Quiz. Farà fede la data e l'orario dell'invio della mail o dell'inserimento su Facebook. È importante inoltre che si scrive il nome esatto dell'oggetto. Con le novità introdotte da lunedì cambia anche il regolamento che è integralmente pubblicato sulla pagina Facebook di Flash Quiz e sul sito web della nostra emittente www.italia2tv.it